Allora, siamo qui alla Darsena, abbiamo fatto un bellissimo concerto, faccio vedere, ecco, salutate, un po' di entusiasmo, mannaggia, non mi hanno capito, e abbiamo fatto un concerto bellissimo, il posto bellissimo, location veramente bello, suggestivo, perché quando si suona in posti, insomma, come di fronte a un fiume, di fronte a un lago, di fronte, insomma, dell'acqua, è sempre molto suggestivo, cioè come se il suono riflettesse sull'acqua e si spargesse per tutto il fiume, quindi il Vodafone Music Night è stata un'esperienza bella, ci siamo divertiti, abbiamo suonato bene, c'era bellissima intesa sul palco, come dire, quelle cose che più le prepari e più vengono, come dire, troppo premeditate, invece abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, così, suonando con grande, come dire, serenità, questa grande serenità ha fatto sì che il concerto venisse fuori bello e entusiasmato, quindi sono contento, grazie a Vodafone Music Night e grazie a tutti voi, ciao!